Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come va? Spero che state bene, che stia trascorrendo una splendida giornata Mi rinnovo le scuse per questa mia location esterna, però ripeto ragazzi, come sapete in quest'ultimo periodo sono più fuori che dentro casa E in questo video voglio tornare a Palli Calcio Mercato, nella fattispecie di Torino Perché sembra che il DS Vagnati abbia riallacciato i contatti con il Corinthians per un giovane terzino sinistro classe 2000 Luca Spita, un Crivellaro terzino appunto brasiliano classe 2000, ma di origine italiana Quindi tecnicamente, anzi praticamente, non andrebbe neanche a inficiare appunto sugli slot degli extracomunitari per o gennaio o eventualmente per l'estate prossima Però prima di andare non c'è la questione, mi raccomando, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto Attivate la campanellina e grigie notifiche per venire sempre al giornale sul canale Supportate le mie due serie gameplay, quindi quella su Football Manager 2021 e quella su FIFA 21 Scusate, Football Manager 2022 e FIFA 22, sono rimasto l'anno indietro E ovviamente qui sotto in descrizione date anche uno sguardo al mio secondo canale, DM Music Appunto il mio secondo canale dove parlo soltanto di musica, ma veniamo a noi Chi è questo Luca Spita, un Crivellaro? Terzino appunto sinistro del Corinthians, classe 2000 175 cm che tanto quanto rappresenta un terzino classico moderno Quanto allo stesso tempo rappresenta un po' un'eccezione per i terzini brasiliani Voi mi chiederete, ma perché? Perché a differenza di molti terzini brasiliani Luca Spita riesce anche discretamente a difendere Partiamo dal presupposto appunto che è un, questo terzino sinistro appunto C'è un 75 cm, un brevilineo, molto veloce sul lungo Molto diciamo scattante anche in progressione Buoni tempi di gioco sia nell'inserimento che comunque nell'effettua i passaggi Non disdegna al dribbling, mancio naturale Usa anche discretamente il destro, devo dire Smaliziato ma non ancora QB Quindi voglio dire, quello dovesse venire in Italia Insomma dovrebbe fare un lavoro Su questo fondamentale anche perché il Torino è abituato a due terzini sinistri Come Hansaldi e ahimè per i tifosi del Torino O Laina che comunque sanno giocare con entrambi i piedi Come vi ho detto un difensore che ha nei tempi di gioco Soprattutto di inserimento e di sovrapposizione interna Le sue armi predominanti Lui gioca prettamente come terzino sinistro In un 4-3 inteso appunto con le duali esterne Quindi con i due esterni offensivi Non con i tre attaccanti puri E quando va in progressione offensiva È molto frequente vederlo che si sovrappone internamente All'esterno sinistro della propria squadra Quindi ha questa particolarità che tipica molto anche dei terzini olandesi Hanno questo modo di giocare molto interni sul campo Segue molto l'azione quando si sviluppa sulla fascia opposta Vale dire quando la palla è sulla fascia destra Il suo raggio azione tende molto a centrarsi E a cercare lo spazio libero Ha un buon sinistro, un buon fondamentale Un ottimo controllo con l'esterno sinistro E appunto non disdegna neanche il dribbling Sicuramente un profilo molto interessante Anche perché ripeto È un 2000 Quindi 22 anni Diciamo nel 2022 È di origine italiana Quindi non occupa neanche uno slot d'extracomunitario E il prezzo è anche accessibile Perché il Corinthians vorrebbe 5 milioni Il Torino si è fermato a 4 Però contando un piccolo debituccio Che il Corinthians ha verso il Torino Per quanto riguarda Cioè quando la società brasiliana prese Avelar E fu Quindi di circa 750 mila euro Ecco che qualora dovesse essere accettata L'offerta di 4 milioni del Torino Ecco gioco forza che l'esborso economico Sarebbe di 3 milioni 250 mila euro Quindi veramente un'ottima cifra Un'ottima affare Un po' come ha fatto io con Caio Corgi Comunque è andato a spendere poco Comunque per un giocatore interessante Ora contestualizziamo in un'ottica Torino Allora Lucas Piton sarebbe perfetto Per il centrocampo a 5 O comunque a 4 Vale a dire come esterno A tutta fascia Sicuramente ottimo il fatto che Abbiamo buone doti Se difensive che offensive Qui non ci piove L'unico dubbio è che Ok Vai a prendere comunque un altro giovane Però quando tu davanti Hai un Ansaldi Che comunque c'ha 35-36 anni E un'alaina Che Dio ce ne scampi Voglio dire Un titolare Lo si vuole prendere per questa fascia sinistra Oppure si vuole rischiare E prendere questo Lucas Piton E buttarlo Insomma Come titolare Nell'undici inziale Io onestamente Prenderei Piton Però farei anche un santissimo investimento Per un esterno sinistro Titolare Perché ripeto In questi affari qui O poi diventa un crack assoluto O magari rischi di bruciare Il giocatore Un'alternativa sarebbe stata Parlando sempre di giovani Per il Torino Qualche mese fa a Parisi Il 2000 dell'Empoli Il problema è che Infatti anche di Parisi Molti mi hanno parlato sotto i commenti Il problema è che su Parisi Ci sono già le big italiane Quindi se magari inizio stagione Potevi cavartela con 5-6 milioni di euro Adesso magari Il prezzo andrà molto a crescere Perché ho fatto un video stamattina Dove ho parlato anche di un interessamento Dell'Inter Dove c'è anche il Milan Dove c'è anche la Juventus E quindi Il tutto sarebbe Un pochino difficile Ora da concretizzare Si parlava anche di Gatti L'esterno sinistro Se non è del Frosinone Che sta facendo molto bene in B Però adesso è monitorato la Juventus Che vorrebbe inserirlo Tra la prima squadra E l'Under 23 Insomma Il Torino tecnicamente All'inizio Qualche mese fa Aveva delle Alternative Anche nostrane Gioco forza Che se tu metti Un giocatore comunque brasiliano Sempre dal passaporto Giovane Passaporto italiano intendo Giovane Comunque che Ti permetterebbe Di usufruire Di quel piccolo coupon Del Corinthians A tuo favore Perché comunque C'ha quel debituccio Di 750 mila euro Gioco forza Che comunque Per il Torino Potrebbe essere assolutamente Una buona operazione In prospettiva Ma ripeto Un santissimo terzino Sinistro Un iscritto Sotto il video di stamattina Riguardo al mercato dell'Inter Ha suggerito Di Marco Benissimo Verissimo Di Marco Il titolarissimo Del Torino Problema però Che secondo me Non si muoverà Da Milano Magari l'Inter Operà Si dirotterà Su altri giocatori Per la titolarità Nella fascia sinistra Quella poi Dovesse andare Perisic O meglio Non dovesse innovare Il croato Però ecco Non penso che l'Inter Vada a cede di Marco Né tanto Nel titolo definitivo Ma assolutamente Neanche in prestito Quindi In un'ottica Di investimento futuro E magari Lasciandogli appunto Un pochino Di mesi Di adattamento Sicuramente Lucas Piton Crivellaro Classe 2000 Del Corinthians Potrebbe essere Assolutamente Un buon investimento Spero che il video Vi sia piaciuto E che vi sia stato Anche utile Per capire un pochino Chi è questo Lucas Piton Dal punto di vista Di Vagnadi Starebbe una buona operazione Non come quella Che fece alla spalla Dove prese Paconate Dal Malm Che faceva riserva Harry Cardigno Ecco Spero quindi Che il video Vi sia stato utile In tal caso Lasciate un like Al video Iscrivetevi al canale Attivate la campellina Seguitemi Il misteri gameplay Seguitemi il secondo canale E mi raccomando Tifosi del turino e non Qui sotto Fatemi sapere Cosa ne pensate Involontariamente Ho anche una felpa granata Con scritto king Non con il simbolo del toro Però vabbè Sono in tema Vi mando un abbraccione E ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi